Ciao ragazzi, oggi è mercoledì e quindi nuovo video spacchettamento! Oggi vi porto un pack opening misto, tra l'altro pacchetti inviati da voi. Ragazzi, speriamo che con i vostri pack io sia un po' più fortunato, anche se nello scorso spacchettamento in tre pacchetti ho trovato la ex Shiny. Che culo Federic! Ma chissà se in questi cinque pack mi porteranno fortuna. Ragazzi, questi sono i pacchetti che mi ha inviato Virex nel video di domenica, spero vivamente che l'abbiate visto, perché è molto molto simpatico e poi ogni volta che mi inviate cose è sempre una sorpresa. Io direi di iniziare oggi partendo da Furi Oloranti, per poi passare a X e Y, fare poi Vapori Accesi e Colpi Furiosi. Anche se con il video di ieri, ovvero martedì, avete potuto constatare che non cerchiamo più Volcanion X Full Art. Fantastico, me l'avete inviato voi. Qualcosa di assurdo. Quindi, dato che Vapori Accesi contiene ben due Volcanion, io direi di cercare l'altro, quello con i bordi dorati. Allora, ragazzi, passiamo da Furi Volanti, che è la serie che mi interessa di più, anche perché in Furi Volanti si può trovare Shaming X. Se lo trovo, io sclero. Prima di iniziare, vi invito a lasciare un bel pollice in su per un prossimo spacchettamento, 10.000 like, so che ci possiamo arrivare, e inviatemi un po' di fortuna, ragazzi. Commentatemi qui sotto su che cosa vorreste che io apro in futuro. Il vero è il prossimo mercoledì, perché ogni mercoledì alle 2 un nuovo spacchettamento. Detto questo, ragazzi, Furi Volanti, vai, apriamo prima questo. È questo il pacchetto prediletto, ragazzi. Tra l'altro, sappiamo che le bustine, che sono appunto contenute in queste apposite strutture qua, cartaginose, non so cosa, sono molto fortunate. Quindi, guardate un po' che bellino. Bello Furi Volanti, ragazzi. Speriamo in questo Shaming X, che è una carta che sul gioco di carte collezionabili online non è stracercata di più. Se la trovo, io veramente sclero. Penso che il trick sia sempre uguale. Intanto ringrazio ancora Vyrex per avermi inviato questi pack. Allora, scartiamo, scartiamo, scartiamo. Come al solito, il codice ve lo regalo a voi. Eccolo qua, tutto per voi. Ritiratelo pure. 1, 2, 3, 1, 2. Ragazzi, vediamo un po' cosa troviamo e che Shaming X si faccia vedere. Ok, abbiamo un bellissimo Natu. Carta intera questa, ragazzi. Abbiamo Fletching. Tra l'altro, questo è Furi Volanti, il mio primo pacchetto che spacchetto in real. Realmente, Furi Volanti è un set che non ho comprato. Abbiamo Tail of, abbiamo Electrike, Abbiamo Post Allenatori, Fletchinder, Grande Lente, Salamels, Raro Reverse, bella questa, ragazzi. Molto, molto bella. E un Articuno raro. Va bene, questo Articuno, ragazzi, tra l'altro vedo che è giocatissimo. Cioè, è proprio giocato tantissimo online. Wow. Bello, bello, bello. Sarà per trovaghiaccio, che praticamente fa segnare fino a 3 carte energia. Cioè, qualcosa di fortissimo. Fortissimo. Benissimo. Primo pack è andato. Io direi di passare ora a X e Y. Abbiamo ben due pacchetti. Vapori accesi ce lo teniamo per ultimo. Andiamo ad aprire questo qua di Iveltal. Naturalmente il pacchetto ve lo sfaccio sempre vedere. E vi regalo il codice. Perché è giusto che io vi regale i codici. Tanto poi i codici poi me ne inviate tantissimi voi. Quindi quello non è un problema. Ecco qui il pacchetto di X e Y. Tra l'altro questo è un set che ho spacchettato sul canale tempo fa. Quindi i video potete tranquillamente andarli a ripescare. Nelle mie playlist. O comunque andando indietro sul mio canale. Vi regalo, come al solito, questo bel codice per voi. E si va a spacchettare. 1, 2, 3. 1, 2. Speriamo di essere fortunati. Bye. Abbiamo un bellissimo Lady Bum. Abbiamo Jigglypuff. Venipede. Energia Folletto. Pansage. Fletch in there. Delcatti. Wolbet. Revitalizzante Masterverse. E... Una Magis Lash Raro. Ci porteranno fortuna questi pack? Chi lo sa ragazzi? Chi lo sa? Tuttavia questo set l'ho aperto anche in giapponese sul canale. Quindi volendo potete andarvi a vedere l'apertura del mio box in giapponese. Dove ho trovato una marea di axe full art bellissime ragazzi. Ok. Altro cosi. Altro pacchetto molto molto bello. Guardate che bello Xerneas. E dammi sto Blastoise X. Se non sbaglio si trovava... Blastoise X in questo set ragazzi. Non mi ricordo. Ok vai. Oh Xerneas Ivelta. 1, 2, 3. 1, 2. Dai. Dammi questa axe. Dammi questa Benedetta X. Ok. Energia. Spritz. Lediba. Inkai. Lilipup. Bello. Cartello rosso. Delcatti. Bryzen. Kakuna raro reverse. Eeeeee... Un vidrile raro. Ragazzi capite mi sto cercando di mantenere la calma. Sto cercando di mantenere la calma per non sclerare. Colpi furiosi ci porterà fortuna. Anche se i vapori accesi lo tengo per ultimo ragazzi ma... Vapori accesi è il set e quello che mi porta più sfortuna di tutti. Tra l'altro vapori accesi... Vorrei che mi uscisse una turbo. Cioè non sarebbe male una bella turbo eh. Colpi furiosi. Ragazzi si va a spacchettare tutto. Ok. Vai. Codice come al solito per voi. Ritiratelo pure. 1, 2, 3. 1, 2. Ragazzi speriamo di essere fortunati con colpi furiosi. Vai. Drowsin. Bearsprout. Likitung. Noi... Noi bat. Trapinch. Manutenzione. Amaura. A Shelgor. Slumish da reverse. Ragazzi. Vedo un bordo. Vedo un bordo. Vedo un bordo. Boom. Ornella ragazzi. Ornella. Questa carta ragazzi è full hard. Cioè. Guardate che spettacolo questa carta. Ed è anche molto forte ragazzi. Perché ti fa cercare nel tuo mazzo un pokemon lotta. Una carta strumento. Mostra e raggiungi la tua squadra. Bello ragazzi. Beh mi va bene. Grazie Virex per il pacchetto fortunello. Haha. Bello. Bello ragazzi. Da vapore accesi non chiedo niente. Perché so che tanto non si trova mai niente in vapore accesi. Però noi... Come si apre ragazzi? Questa è una prova di abilità. Come si fa ad aprire questo pacchetto così? Oh sì. Troppo forti. Troppo forti. Da vapore accesi non chiedo niente. Anche se io chiederei effettivamente una... Una turbo. Dato che non ho trovato turbo. Ma se mi capita una full art comunque non è male. Ce la facciamo ad aprire? Ci vorrebbe un'altra full art ragazzi. Così che facciamo due belle full art. Non sarebbe male eh. Allora il pacchetto è quello di Xerneas. Quindi abbiamo aperto due di Xerneas. Quello di X e Y in vapore accesi. Speriamo di trovare qualcosa e di essere fortunati. Ragazzi incrociamo tutti le dita. Perché in vapore accesi è il set. Quello là che non si trova mai nulla. Ma siamo stati anche abbastanza fortunati dirai eh. Ok. Vai. Codice per voi. 1, 2, 3. 1, 2. Tanto so che ragazzi che uscirà una rara. Per carità uscirà la rara sicuramente. Vai. Ma era normale ragazzi. Tanto i vapore accesi è il set per eccellenza dove si trovano rare e basta. Ma comunque questo piccolo gioiellino l'abbiamo trovato ragazzi. Ornella. Carte che tra l'altro è fidatevi molto molto utile. La del gioco. E niente dai io vi lascio questa bellezza qui. Ragazzi un like, un commento, iscriviti al canale. Mi raccomando sempre il canale di Vyrex qua sotto in descrizione. Perché ci ha regalato tutto questo ben di Dio. E niente. Se volete potete spedirmi anche voi qualcosa. Potete trovare il link della mia fan page qua sotto in descrizione. Potete scrivermi e io vi darò il mio indirizzo. Per poi spedirmi tutto quello che volete. Anche i pacchetti se vi interessa. E niente da vedere è tutto. E ciao ragazzi.